Il 7 e l'8 dicembre, nel centro storico di Angli, partirà la settima edizione di Gusta Natale. Quest'anno la manifestazione sarà incentrata sulla cucina di qualità, preparata dalle mani di rinomati chef per una volta alla portata di tutti. Gli ingredienti saranno quelli del territorio e i piatti quelli tipici natalizi. La terra è un bene prezioso, un bene di tutti. Noi lo sappiamo, così quest'anno abbiamo deciso di unirci a Solo Food per il Terra Madre Day, destinando il ricavato della cena inaugurale per l'adozione di un orto in Africa. Sostenendo questa iniziativa, ci aiuterete a realizzare un sogno, a riaffermare il diritto al cibo, alla biodiversità e all'educazione alimentare, in un paese dove l'ingiustizia, la malnutrizione e la fame sono sotto gli occhi di tutti. Il nostro grazie va a gli chef. Il nostro grazie va a voi. Vi aspettiamo in tanti qui ad Angli per Gustanatale 2011. Buon Terra Madre Day.